Insomma c'è questa nuova serie di Rachman sugli zombie che si intitola The Walking Dead e a Bologna 17 sera al Panini Store al Tag 8 e mezzo in poi ci incontriamo per fare il lancio di questa storia qua, l'ho già detto di zombie? Sì, avete una fetta di salame intanto? No. Cosa dire, visto il successo di The Walking Dead di cui io sono un grandissimo fan sia del fumetto che della sede televisiva, sapete che io non posso astenervi poi dal fare le parodie delle cose che mi piacciono e è decola qua. Io adesso vi faccio vedere qualche tavola, ma giusto le prime insomma. Qualcuno aveva già visto qualcosa sul numero 100 perché c'era questo personaggino qua che sostanzialmente cerca di mettere a posto un mondo dove l'epidemia zombie ha cambiato tutto, tutte le regole. Adesso ci sto facendo vedere anche troppo, basta, basta e mi fermo così. Si mangia tanta carne anche noi stasera e questo non è il salame maiale ma non dovevo dirvelo, però noi ce lo mangiavamo, buoni zombie in fondo. Allora vi aspetto a Bologna il 17 gennaio dalle 20 e 30 in poi al Panini Store di Via Testoni 5 dove facciamo un po' di festa e dove mi truccherò da zombie forse. Ciao!